26 febbraio 2020 sono le 16.45 ora questa è la terra america dove sta pronta questa è la variante a fammi trovare gli stani giugno e ora faccio una bella cosa io sono del 1955 e sono nato 6 luglio 1955 e ne è successe tante cose ecco che la passata di tempo parecchia gente sapata anziana specialmente ecco sotto questa è la zona archeologica questa è archeologica sub archeologica ecco prima ci stiano le terre ci stiano poi sono abbandonate c'è rimasto qualche di una fallo terra giusto ecco in giro di fronte a me c'è potete quello montare ma pur se ne buco scuro anzi facciamo una cosa da l'altro sotto ciò potete da l'altro sotto quelle tutte città in città ma comunque un gruppo della divisione delle persone che la trasmette non so fra un mese due mesi hanno già facerti riprese ecco per la città in città in città belle riprese ha cocciso perché ecco veramente si stanno impegnati tanto questa amministrazione ecco hanno bonificato si hanno messo si hanno messo a cosa ecco sì sì ebbene hanno fatto tante cose veramente hanno fatto tante belle cose hanno fatte ecco ma hanno ripulito notate che hanno ripulito loco sotto ecco l'ecco sotto ecco sotto ecco questo cimitero in costruzione e quindi se vede bene la zona archeologica perché ne conto che sta sporca e ne conto che sta pulita ecco ma sono tutti i terrenizzati vabbè fammi rimpiccolino dopo io mi stiamo avvicinando piano e piano ma manca di avvicinare da poco meglio per vedere